Il tuo pezzo, l'abbiamo sentito, è molto bello, c'aveva ragione Paolo Berli nel presentarlo e denota anche una certa sensibilità. Quello che volevo chiederti è che al di là della musica e dell'opportunità di rappresentare un giorno come questo, per quanto riguarda invece la festa del lavoro, come lo vedi tu il lavoro in Italia? Non è un buon periodo secondo me? Io lavoro con un contratto a progetto in una cooperativa sociale in provincia di Roma per cui andatevi a vedere quanto guadagna un operatore, un educatore e poi fatevi un'idea di quello che si potrebbe pensare, non dico nient'altro. Grazie Marco Grazie a voi